siamo in via della repubblica nella zona in cui si effettua la fiera settimanale del sabato a pochi passi dalla caserma dei vigili del fuoco e della polizia municipale c'è stata segnalata la presenza su questa strada di rifiuti di tipo industriale precisamente di questi rifiuti rifiuti costituiti da queste fibre questo tessuto fibroso che dovrebbe essere smaltito in maniera diversa essendo pericoloso per la salute bene guardate quanto ce n'è e contenuti in questi sacchi neri che non riescono a nasconderlo non essendo sufficientemente grandi per contenere tutto quanto è depositato e sono depositati in grandissime quantità i sacchi si trovano lungo tutta la strada e sono visibili ad occhio nudo perché come vedete non sono nascosti quindi li possono vedere tutti tutti coloro che passano per questa strada sia in automobile che a piedi considerando che in questa strada nel giorno della fiera del sabato si ha un passaggio enorme di cittadini e di tanti che addirittura parcheggiano le loro automobili in questo punto in questi punti e continuando che in quelle giornate la polizia municipale è presente per mantenere l'ordine ci si chiede come sia possibile che queste balle non vengano viste che questa sostanza passi inosservata che questi rifiuti speciali restino qui